Buonasera. Buonasera. E' bello perché ci vogliamo bene come sacerdoti. Ha detto, ci aiuterà ad entrare in questo mistero di luce, perché questa è la verità, non lo dimentichiamo mai. Noi purtroppo abbiamo un grandissimo difetto quando pensiamo anche alla Pasqua, perché se io vi chiedessi proprio di getto Pasqua, noi diremmo morte di Gesù. Perché guardate, penso pure qui a Cassandrino, no? Anzi no, soprattutto qui a Cassandrino, avete questa tradizione, le ultime parole di Gesù. Ad esempio da noi c'è la processione della dolorata e poi avete visto in Quarissima abbiamo fatto i venerdì della Via Crucis durante la Messa. Quanta sottolineatura che noi diamo alla passione. Quanto evidenziamo e anche quanto sforzo a livello parrocchiale poi facciamo nei confronti della passione e morte. Quanto poco evidenziamo poi la risurrezione. Allora, voi capite, è come se prendessimo di questo mistero solo un aspetto. Il mistero deve essere preso nella sua totalità. Perché intanto noi stiamo qui, anche questa sera concretamente, proprio perché il morto è risorto. Perché se fosse solo morto noi non staremo qui. Staremo a casa nostra a mangiare, a vedere la televisione, a ballare, a fare quals'altra cosa. Ma stiamo qui perché lui è risorto. E voi se ci fate caso, vedete, noi abbiamo la Quaresima che dura 40 giorni. Poi sapete, il tempo pasquale dura 50 giorni. O ora, anche solo a livello di numero, 50 è più di 40. Quindi significa questo che il tempo pasquale è di più rispetto al tempo quaresimale. Però quante attività facciamo in Quaresima? Quasi niente facciamo poi durante il tempo pasquale. Purtroppo questo è successo anche nel tempo. Dobbiamo dire che nel secondo millennio, quindi dal 1100 fino, possiamo dire, anche fino ai tempi nostri, noi continuiamo a presentare ancora l'aspetto della passione, del dolore. Gesù mio condurre funi, chi legato ti portò, sono stati i miei peccati. Tanta presenza alla Via Crucis, attorno alla Madonna, e alla notte di Pasqua, insomma. Di più alla notte di Natale che alla notte di Pasqua. Eppure noi l'abbiamo ascoltato il 6 gennaio, se vi ricordate. Centro di tutto l'anno liturgico è il mistero del Pasquale di Cristo crocifisso, sepolto e risurdo. Tutto nasce lì, tutto parte da lì e tutto ritorna lì. E se voi pensate, noi la domenica, quando celebriamo, noi celebriamo la Pasqua la domenica. Tant'è vero, noi chiamiamo la domenica Pasqua settimanale. Poi di questa Pasqua settimanale, che celebriamo di domenica in domenica, celebriamo, diciamo, una Pasqua anniversaria, dove ricordiamo la risurrezione di Cristo. Però vedete, noi non semplicemente ricordiamo la risurrezione di Cristo, perché nella Pasqua annuale, la Pasqua con la veglia pasquale, perché sapete, la vera celebrazione è quella della veglia, non quella della domenica mattina. Il cristiano, il vero cristiano, dovrebbe partecipare, per partecipare pienamente a quella della veglia. E tra l'altro, dopo, solo una parentesi adesso, vedete, noi molto volte abbiamo il triduo pasquale. È vero, il triduo pasquale porta a che cosa? Alla Pasqua. E il triduo abbiamo giovedì, venerdì e sabato. Sapete, questa è una grande sciocchezza, quella che vedete in questo momento. Voi però dovete proprio con la testa così. Il triduo pasquale è venerdì, sabato e domenica. E non è come il triduo alla Madonna di Cassantrino, il triduo a salvo cuore di Gesù. Perché noi di che cosa facciamo? Tre giorni che ci preparano alla festa. Qui non è il triduo pasquale che ci prepara alla festa pasquale. Il triduo è Pasqua. Venerdì, sabato e domenica. Noi celebriamo il solo mistero pasquale del Cristo crocifisso, venerdì, sepolto sabato, domenica risorto. Tanto è vero che se porremo attenzione durante le celebrazioni, noi vedremo che c'è una celebrazione, è come se fosse una sola celebrazione. Infatti, venerdì santo, il sacerdote non dicevi, benedico di nepotente, andate in pace. Finirà nel silenzio, lì imporrà le mani, l'orazione sul popolo e nel silenzio saremo concedati. Sabato addirittura non c'è niente, non c'è nessuna celebrazione. La celebrazione che inizierà la veglia non inizia con il segno di croce. E lì terminerà con l'andate in pace, alleluia, alleluia. È una sola celebrazione. E questo è il mistero che noi celebriamo. Lo stavo dicendo, noi non semplicemente celebriamo la Pasqua di Cristo. Nella veglia pasquale, nel mistero pasquale, sapete cosa celebriamo? La nascita della Chiesa. Perché la notte di Pasqua, voi cosa avrete in modo particolare? I battesimi. Nel battesimo si diventa? Quindi la Chiesa cresce. Quindi ce l'abbiamo nascita della Chiesa nella veglia pasquale. E anche se non ci fossero i battesimi, durante la veglia pasquale, noi che cosa rinnoviamo? Il nostro battesimo. Ci rinnovano le promesse battesimali, sacerdote con quell'acqua benedetta ci aspergerà in memoria del nostro battesimo. Allora capite? La consapevolezza a cosa dovrebbe portarci? Come dovremmo vivere la veglia pasquale? Dice, ma quello poi si fa di notte? Mamma mia, uno che ne sono, poi, sapete no? Ci sono nove letture durante la veglia pasquale. Se ne possono fare anche sette, anche cinque e anche tre. I più bravi ne fanno tre, giusto così, dice? Così non allunghiamo, non appesantiamo i fedeli. Ma se è una veglia, deve essere una veglia. Dice, ma perché non lo si fa prima? Perché se la facciamo prima non è più una veglia, perché la veglia nel suo concetto di veglia, che cosa significa? Che io devo sottrarre del sonno. Veglia chi? Chi non dorme per vegliare. Vegliate e pregate, perché non sapete in qual momento il Signore vostro verrà. Quindi direi che quello che regolarmente farei, che è alle undici e mezzo, ancora fate la veglia voi? Alle dieci e mezzo. Quindi alle dieci e mezzo, quindi nella migliore delle poze finiamo che è finita l'una, oppure alla mezza. Generalmente noi alla mezza stiamo già a dormire a casa. Quindi direi che io sottraggo del sonno perché veglio. E veglio perché? Perché attendo il Signore che ritorni. Misterio della fede, annunciamo la tua morte e la tua assicurazione nell'attesa della tua venuta. Noi stiamo in chiesa perché stiamo aspettando che tu ritorni. Non stiamo in chiesa per fare il precetto, l'abbiamo visto l'anno scorso, vi ricordate. Non stiamo in chiesa per il precetto, stiamo in chiesa con le lampade accese, la veglia di Pasquale, prima di tuttura le candele in mano accese, aspettando che tu ritorni. Allora la candela mi fa luce perché se è tutto buio, lì torno e non lo vede, non lo vedo. E siccome la celebrazione inizia con il cielo pasquale, guardate, è bellissimo, perché purtroppo noi non riusciamo a vedere, ma provate la notte di Pasqua ad alzarvi sulle punte e vedere addirittura tutto buio e solo questa luce che cammina. All'affermazione Cristo luce del mondo, venite adoriamo. Però il giorno prima è stata detta un'altra cosa, ecco il legno della croce, eppure lì rispondiamo, venite adoriamo. Allora quella croce, luce di Cristo, come d'Eternesto, quella croce è luce, è il mistero pasquale, è luce. Tra l'altro lo ascoltiamo anche il giorno di Natale, venne nel mondo la luce vera e le tenebre non hanno vinto. Questo è l'annuncio. Le tenebre ci sono, ma le tenebre non hanno vinto. Vince la luce, la luce nelle tenebre. È la notte dove stanno le tenebre, e in quella notte dove ci sono le tenebre esce la vita nuova. Tant'è vero che, ripeto, abbiamo i sacramenti con il battesimo, che è questa vita nuova proprio dalle tenebre. Scusatemi il paragone, non è così anche l'utero materno. E ve lo sapete, no? Che la Chiesa, il fonte battesimale, è l'utero della Chiesa. Perché dal fonte battesimale, lì, la Chiesa genera i suoi figli. Uno dei sacramenti che a me piace molto celebrare sono i battesimi. Pochi matrimoni, vi dico la verità, pochi matrimoni, ma i battesimi mi piace molto celebrarli. E quando poi arriva quel momento, lo dico alle famiglie. E in questo momento la Chiesa ha partorito. E noi che stiamo lì come Chiesa, noi dovremmo avvertire questa gioia, come i fratelli avvertono quando arriva il fratellino a casa. È un mistero grandissimo questo. Gli occhi della fede che devono sempre più aprirsi, veramente a questa realtà così grande. Quindi, allora, detto Don Ernesto, di accompagnarci, non vi accompagno, ma ci accompagniamo insieme in questo mistero di luce. In questo mistero di luce, come abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, leggendo, abbiamo appena appena iniziato, avete visto la passione secondo Giovanni. Adesso facciamo un passo indietro rispetto alla passione. Facciamo un passo indietro dove inizia la passione. Adesso ci portiamo nel Cenacolo. Sempre secondo Giovanni. Branno che ascolteremo in modo particolare il Giovedì Santo, perlomeno una parte di questo brano. E l'altra parte l'ascolteremo lo stesso nella passione del Venere di Santo. Prima di iniziare a leggere il testo, collochiamoci un attimo. Adesso ascolteremo il primo versetto, direi, prima della festa di Pasqua. Noi l'abbiamo visto con Esodo 12, se ricordate, per l'ebreo la festa di Pasqua è la festa più importante. Anche per noi la festa di Pasqua è la festa più importante. Però per noi non è così. Per noi la più importante è Natale, come a livello affettivo. Però è sbagliato, perché quella più importante è la Pasqua, come abbiamo cercato, come stiamo dicendo. Quindi per l'ebreo la festa importante è la Pasqua. Perché vi ricordate? L'ebreo a Pasqua ricorda il passaggio del Mar Rosso. Quindi ricorda il passaggio della schiavitù alla libertà, al fatto che diventa da non popolo che diventa popolo di Dio. Quindi con la festa di Pasqua quel popolo lì diventa il popolo di Dio. Addirittura dove Dio si è impegnato personalmente scendendo attraverso lo sterminatore, vi ricordate che passerà sulle case, impegnandosi personalmente così per riscattare il suo popolo, per far uscire appunto la schiavitù del farone di Egitto. Quindi Pasqua, quindi questo passaggio che il popolo celebra. era una festa importantissima, è una festa importantissima. Immaginatevi a Gerusalemme quanta gente arriva per la festa di Pasqua, come da noi quanta gente arriva per la festa della Madonna. Anche quelli che stanno fuori vengono appositamente qui per la festa. Quindi tutti vanno lì, salgono a Gerusalemme per celebrare appunto la festa di Pasqua. Perché addirittura prima era previsto che solo a Gerusalemme si poteva celebrare la Pasqua. E siccome non c'erano i posti, addirittura dovevano fare, c'era dato una sorta di dispensa dove anche fuori si allargava l'accampamento e diciamo il territorio per quella sera si allargava. Perché il concetto è sempre quello, il Signore ritorna nella notte a Gerusalemme. E quindi tutti quanti vogliono essere a Gerusalemme. Tante ve lo sapete, non è che il vero ebreo, lui vuole essere seppellito a Gerusalemme. Perché quando arriverà la fine dei tempi, da Gerusalemme dovranno risorgere. E noi lo sappiamo, siamo in cammino verso la Gerusalemme celeste. Perché come dice il Salmo, tutti là siamo nati, a Gerusalemme. Immaginatevi quindi nel cuore degli apostoli e anche nel cuore di Gesù, perché Gesù è un ebreo. E quindi Gesù, lui ha celebrato ogni anno la Pasqua. Quando era ragazzo, c'era Giuseppe quando capo di famiglia che celebrava. Lui è diventato adulto è come se lui poi diventa lui il capo famiglia. Con questa famiglia che attorno a sé che appunto sono i discepoli. Stiamo alla tradizione, va bene? Anche se sapete, è errata, però secondo la tradizione Gesù è morto a 33 anni. Quindi fermiamoci a questa tradizione qui. Quindi Gesù ha celebrato 33 Pasque. Giovanni nel suo Vangelo ci presenta le ultime tre Pasque di Gesù. Invece gli altri evangelisti ce ne presentano l'ultima Pasqua di Gesù. Quindi Giovanni ce ne presenta 3, però Gesù ce ne presenta 33 Pasque. Ora in quella 33esima, l'ultima, succede qualcosa di particolare. Quindi cerchiamo di entrare in questo clima anche noi. Come dovremmo sempre cercare di entrare nel clima quando partecipiamo alla Pasqua settimanale, alla celebrazione eucaristica, alla messa domenicale. Non ci andiamo mai in modo distratto perché Gesù lo dice agli apostoli, ricordate, ascolteremo domenica delle palme, andate a preparare la sala. Quindi c'è bisogno di una preparazione perché anche noi a casa quando viene un ospite noi prepariamo la tavola, la imbandiamo, facciamo anche un banchetto particolare e tutta la famiglia prepara questa cena o il pranzo. E anche l'ospite che arriva generalmente non arriva mai in mani vuote e porta sempre un regalo, porta un dono. E anche il fatto se c'è una cena o un pranzo, anche lui si veste in modo particolare. e voi lo ricordate prima nei giorni di festa quando i genitori il vestito buono lo andavano a comprare per la festa. Ma è vero che ogni giorno i ragazzi hanno i vestiti nuovi ma noi il vestito nuovo lo indossavamo solo per la festa e noi avevamo generalmente l'abito per la festa e l'abito per il lavoro. E a messa noi, permettetemi il termine, ingegnavamo l'abito nuovo. Ma adesso noi a messa che abiti portiamo? Ricordate quando nella parabola c'è l'invitate le nozze gli arriva e dice amico ma il vestito per l'abito dove sta? Il vestito per la festa dove sta? Non so se qui nelle vostre zone però in alcune parti qui sono tutti gli africani i cattolici la domenica indossano un abito particolare hanno l'abito per la domenica. Vi ricordate parliamo dei segni anche i segni dicono questo ma anche noi in chiesa generalmente la domenica usiamo generalmente un calice diverso dai calici che usiamo la settimana la cassa o la gandossa è generalmente diversa la domenica da quella degli altri giorni feriali e quella di Pasqua sarà ancora più diversa generalmente noi siamo quella della nostra prima messa che è quella un po' più solenne proprio a indicare anche qui nei segni una cosa straordinaria e pure noi a casa generalmente se è una cosa tra di noi siamo proprio piatti plastica non fa niente però poi la domenica c'è una festa vogliamo il bicchiere che sia particolare conserviamoli questi segni perché in questi segni noi stiamo affermando qualcosa quindi questo è il contesto che si sta vivendo tenete presente che quando gli ebrei celebravano soprattutto questa unità come quella della Pasqua si celebrava in modo particolare loro stavano seduti a tavola non come noi ma erano sdraiati quindi c'erano questa sorta di tavola così loro diciamo come stiamo adesso così i piedi invece stavano dietro infatti se vi ricordate l'anno scorso quando vedemmo la peccatrice che andò lì e si mise a piangere e bagnava con le sue lacrime il piede di Gesù non poteva stare così davanti a perché come raggiungeva i piedi di Gesù quindi stanno con i piedi dietro e loro stanno seduti un po' così sdraiati non è molto una posizione comoda questa qui però era il rituale che questo qui che veniva osservato da qui capite anche perché come leggeremo adesso Giovanni il discepolo metterà la testa sul capo di Gesù potrà appoggiare la testa sua sul petto di Gesù perché è in quella posizione lì mentre leggo cerco poi di dire qualcosa non facciamo le altre volte lo leggiamo tutti i seguiti perché se leggiamo tutti i seguiti abbiamo finito poi l'incontro e poi direi ben poco vediamo fin dove riusciamo ad arrivare prima della festa di Pasqua Gesù sapendo che era venuta alla sua ora di passare da questo mondo al Padre avendo amati i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine Giovanni allora ci sta collocando subito quindi siamo prima della festa di Pasqua ora qui è vero prima della festa di Pasqua o è Pasqua non entriamo adesso in questa disquisizione qui perché secondo Giovanni qui non è la cena pasquale secondo Giovanni invece secondo gli altri tre invece quella di Gesù è l'ultima cena è proprio la cena pasquale però non entriamo adesso in questa considerazione stiamo a Pasqua quindi stiamo in quel clima lì di quella festa lì e Gesù in questa realtà di questa festa a un certo punto vedete c'è una consapevolezza che lui ha sapendo che era venuta la sua ora vi ricordate le nozze di Cana quando Maria chiede non hanno più vino Gesù dirà non è ancora giunta la mia ora e ci siamo sempre chiesti ma qual è quest'ora ecco l'ora ricordate quella samaritana è giunto il momento ed è questo è l'ora come lei stesso dirà di passare da questo mondo al padre e lui specificherà che cosa è quest'ora è la sua glorificazione e Gesù riceve gloria prende gloria da quello che per noi diventa lo scandalo più grande la morte miserevole in croce perché diceva l'antico testamento maledetto colui che pende dal legno quindi il crocifisso è un maledetto eppure Gesù lì è glorificato sapendo che era venuto alla sua ora di passare da questo mondo al padre Pasqua sapendo di fare la sua Pasqua passare da questo mondo al padre Pasqua passaggio avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine a chi sta riferendo qui? certamente ai discepoli che stanno lì ma si sta riferendo a tutti quanti noi chi siamo noi? gli amati fino alla fine il discepolo è l'amato fino alla fine ricordate domenica scorsa Lazzaro ricordate come gli vanno a dire Gesù ma chi va a dire Lazzaro Lazzaro colui che tu ami il discepolo è sempre colui che è amato e noi in forza del battesimo siamo discepoli siamo coloro per sempre amati ma amati non perché ci sia qualcosa da parte nostra che possa attirare questa sua benevolenza perché lui ci ama avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò vedete due volte specifica avendo amato fino alla fine quindi vuol dire che l'amore è ciò che ha motivato tutta la vita di Gesù Cristo e l'amore diventa anche il fine della vita di Gesù Cristo Gesù non ha avuto altro scopo venendo sulla terra quello di manifestarci l'amore allora adesso dovremmo essere bravi a rileggere tutto quello che stava scritto fino ad oggi per vedere se questo è vero o non è vero perché allora alla luce di questo versetto noi andiamo a vedere che tutto quello che lui ha fatto era segno di amore allora quello che in questo momento vivrà con la l'ultima cena la lavanda dei piedi la crucifissione diventa la cifra la somma il riassunto dell'amore allora la croce non è la passione l'atto dolorifico la croce diventa il luogo dove noi vediamo l'amore di Dio ve lo accennai veramente qualche incontro fa per i pati della chiesa la croce diventa il talamo il letto nunziale dove Cristo ama la chiesa sua sposa perché quando a un certo punto alla fine qui dirà Gesù tutto è compiuto il testo latino dice tutto è consumato secondo i pati della chiesa alcuni pati della chiesa quel tutto è consumato fa proprio riferimento a quando lui ma la donna consumano le loro nozze Gesù sulla croce consuma come sposo le nozze con la chiesa sua sposa sapete perché perché siccome poi dice dal suo costato uscì sangue e acqua che cosa sono questi i sacramenti noi diventiamo cristiani attraverso i sacramenti dove nasciamo nei sacramenti dalla croce esce fuori sangue e acqua i sacramenti quindi ancora una volta il segno nunziale del mistero della croce se io vivo così ma capite come cambia la mia dimensione è come quel giorno sì io sarò anche dispiaciuto perché ricorderò certamente l'evento dolorifico perché a croce è stata quella che è stata che ha visto il film alla passione se lo ricorda e lì non è che è stata una sciocchezza le fostate che ha avuto la colonna di spine no quelle ci sono consegnate è vero però in un certo punto ringraziamo il Signore perché in tutto questo Lui ci ha detto quanto ci ama tant'è vero che noi baceremo la croce non baceremo il crocifisso è vero che venire il Santo e purtroppo abbiamo la croce con il crocifisso sopra però deve essere noi che andiamo baciamo la croce noi adoriamo la croce non il Cristo il crocifisso perché il crocifisso lo sappiamo che è risorto però su quel legno della croce vedete è diventato l'albero della risurrezione quel legno albero la genesi è dove il tentatore ci fece tendere la mano per poi allontanarci poi dal progetto divino e che Gesù ristabilisce quel progetto divino salendo Lui poi su questa croce quindi avendo amato i Suoi gli amati per sempre portiamocelo nel cuore questo quando arriva il momento di tristezza di elusione anche di scoraggiamento ricordiamoci io sono l'amato per sempre io sono amato fino alla fine alla fine dei giorni di Cristo perché è arrivato alla fine siamo amati anche alla fine dei nostri giorni terreni per poi aprirci all'eternità dove addirittura saremo immersi poi in quell'amore e forse se ce lo diciamo più spesso certe forme di depressione potrebbero anche scomparire la nostra vita se più spesso ci diciamo che noi siamo gli amati perché se sono amato vuol dire che davanti ai Suoi occhi io valgo qualcosa altrimenti non darebbe la vita perché la persona depressa è quello che dice che la sua vita non vale niente e se io sono amato posso anche aiutare gli altri a comprendere quest'amore ci ricordiamo la parabola del Papa di Lazzaro e di Ricco Epolone se vi ricordate è il mio telefono scusate non vorrei che ok ok va bene quindi è raggiunta la sua ora la sua di passare da questo mondo al Padre avendo amati i suoi che erano nel mondo gli ammò fino alla fine durante la cena quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda figlio di Simone Scariota di tradirlo Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava si alzò da tavola le pose le vesti preso un asciugamano se lo cinse attorno alla vita qui c'è qualcosa che stona subito ci fa un poco subito riflettere compare questo diavolo compare questo diavolo in questo momento così forte di intimità in questo momento così forte di festa perché non lo dimentichiamo mai il diavolo qui non dice Satana il termine diavolo diavolo in greco significa colui che divide colui che separa il compito del diavolo è proprio questo volerci separare da Dio il diavolo è colui che accusa ci vuole accusare davanti a Dio e vuole accusare anche Dio i nostri confronti presentandoci ricordate alla donna no non è vero che morrete anzi diventerete come Dio quindi vedete il diavolo il diavolo quando aveva già messo in cuore a Giuda figlio di Simone attenzione perché qui purtroppo il testo italiano non rende perché il testo greco dice come se il diavolo aveva iniziato a lavorare nel cuore di Giuda per portarlo poi a compiere l'azione di tradimento cioè in pratica si era insinuata la tentazione con molto alto pure no che faccio la cosa c'è davanti agli occhi che faccio do seguito o non do seguito Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava quindi attenzione Gesù qui non sta subendo qualcosa che purtroppo è successo all'improvviso e lui si è trovato lì in mezzo invischiato Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani che era venuto da Dio e Dio ritornava quindi Gesù gli eventi li domina nella passione di 19 la volta scorsa quando arrivano i soldati chi cercate? è Gesù che prende l'iniziativa chi cercate? Gesù di Nazareth sono io Gesù non subisce niente lo dirà lui no sono io che do la mia vita come il buon pastore della vita per le pecore e infatti il discorso che è velato qui vedete noi vedremo qui i protagonisti è Gesù adesso c'è Giuda e poi compare Pietro e poi di nuovo Giuda fa attenzione per i protagonisti sapete in questo Vangelo chi sono? Gesù e e Satana il tentatore e c'è questo itinerario perché qui Gesù sta mirando a Giuda per poterlo riscattare il demonio sta mirando a Giuda per portarselo da sé ed è sempre questo è sempre così e allora qui tutto quello che Gesù fa vedremo è tutto riferito a Giuda però in modo velato perché Gesù non lo caccia subito non lo chiama allo scoperto però li vuole far capire anche attraverso questa realtà è quasi a dirgli Giuda sono io che mi sto mettendo nelle tue mani non è che sei tu che sei stato così bravo furbo quindi vedi tu non avessi potuto fare niente se io non mi fossi messo nelle tue mani però Giuda non riesce a capirlo purtroppo questo si alzò da tavola depose le vesti preso un asciugatoio e se lo cinse attorno alla vita è un gesto particolare no? stanno a tavola Gesù si alza si toglie il vestito e togliendosi il vestito Gesù come resta? non ha tosse scusate hai il vestito si toglie il vestito come resta Gesù? nudo non abbiamo vergogna di dire le cose perché pare che teniamo vergogna Gesù resta nudo la nudità di Dio Dio è nudo in questo momento toglie il vestito questa nudità sapete cosa ci dice? ci rivela chi è Dio e sapete come ce lo rivela Dio questa nudità in questa nudità Dio ci viene rivelato come amore nella lettera ai filippesi Cristo Gesù pur essendo di natura divina non considerò un tesoro geloso la sua guaglianza con Dio ma spogliò se stesso prendendo la condizione di servo la nudità di Dio poi dopo dirà ma tu sei il Signore Gesù dice sono il Signore e il Maestro però se ho fatto io quindi capite ecco perché giustamente lo leggeremo Pietro non accetta questo perché amici carissimi ma noi accettiamo questo Dio così che si denuda di tutto dice ma fino a che punto questo Dio vuole arrivare con noi e vi ricordate questa nudità dove la ritroveremo no un vento prima sulla croce sarà nudo anche lì sulla croce ecco la potenza di Dio la nudità sulla croce come atto di amore questa è una discussione che ci fu tra i francescani e i dominicani se è vero che era completamente nudo oppure gli era lasciato di perizoma capite è questione di lanna caprina come si suol dire però pare pare che per rispetto alla festa degli ebrei romani poi gli avevano consentito di poter indossare meno il perizoma pare che così però ripeto non cambierebbe niente la nudità c'è è nudo però adesso dice una cosa particolare perché dice si tolse e depose le vesti e preso un asciugamano l'asciugamano sapete la veste di chi è? del servo quindi lui toglie il suo vestito la sua regalità e si cince si veste di un asciugamano si veste di servo ecco il Dio che ne abbiamo davanti ai nostri occhi il mistero pasquale ed ecco il Dio che si è sempre rivelato in tutto il Vangelo questo qui il servo che si è tolto il vestito della sua divinità per mettersi attorno al fianco l'asciugamano se lo cince attorno alla vita poi verso dell'acqua nel catino e comincia a lavare i piedi dei discepoli ad asciugarli con l'asciugamano di cui si è da cinto se vi ricordate quando l'anno scorso vedemmo l'episodio della donna peccatrice ad ultera dicemmo in quell'episodio se vi ricordate Gesù da quella donna avrà preso avrà imparato il gesto che lui abbia fatto poi nella lavanda dei piedi sapete chi lavava i piedi i servi e non i servi ebrei i servi pagani perché pelle ebreo era un gesto così umiliante e degradante che anche se il servo era ebreo gli veniva risparmiato perché comunque anche se ebreo come servo apparteneva lo stesso al popolo dell'alleanza invece il pagano non appartiene quindi il pagano sì lui doveva lavare i piedi al suo signore quando rientrava dai campi e sapete chi altro lavava i piedi la moglie del marito come gesto di amore nei confronti del marito forse voi ricordate prima le nonne ai mariti lavavano i piedi tornavano dai campi così mettevano i piedi così invece il massaggio è un gesto di amore avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò fino alla fine vedete questo amore dove sta arrivando non è un amore di parole come purtroppo ti voglio bene come facciamo noi è un amore che si lascia coinvolgere non è neanche un amore di chi dà il pacco di pasto oppure dà l'elemosina ma è un amore di chi si lascia coinvolgere è un amore che si piega per piegare devi scendere per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo comincia a lavare i piedi dei discepoli e asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto vedete Giovanni come è preciso proprio ne riportarci veramente sembra quasi che la stiamo vivendo anche noi sotto gli occhi e noi così dobbiamo sempre cercare poi di entrarci dentro mettiamoci anche noi a lato mettiamoci pure nel cenacolo anche se di lato un posticino non fa niente perché ci entriamo anche noi in questo cenacolo perché poi vedete ogni messa questo avviene Gesù che scende fino a lavarci ancora i piedi come adesso lo vedremo proprio quello che dirà con Pietro e Pietro non vuole poi che questo gesto poi avvenga c'è ancora un'altra cosa che cosa potremmo dire sui piedi i piedi è la parte vedete che tocca la terra noi abbiamo le scarpe tenete presente che allora tutta più teniamo i sandali o i calzari chi si poteva permettere però anche se col sandalo o col calzari comunque la polvere entrava quindi è la parte più sporca della persona sono i piedi e Gesù va a lavare questi piedi e i piedi sono anche il segno dove allora ancora di più no la debolezza il famoso tallone di Achille e qui dove c'è la debolezza e Gesù si china davanti a questo gesto proprio che anche qui è la debolezza dell'uomo e lì Gesù arriva ad amare quella debolezza arriva ad amare si china davanti a quella debolezza c'è una scena molto bella lunedì l'abbiamo ascoltato nei Vangeli quando conduva Gesù la donna peccatrice l'adultera maestro l'abbiamo sorpreso in fragrante adulterio donne come questa che cosa dici ed è bello il testo dice Gesù quando si mette si sede per terra e entra a scrivere sulla sabbia poi per l'aereo interno continuo bene poi quando tutti vanno via che senza peccato scagli la prieta resta Gesù e la donna dice il testo è bellissimo Gesù si alzò in piedi davanti alla donna donna dove sono nessuno da condannare neanche io donna come chiama la mamma donna ecco tuo figlio però si alza in piedi davanti a lei a Gesù non lo spaventa il peccato non c'è nessun peccato che possa spaventare Gesù Cristo l'ha affrontato il peccato quindi questi piedi questi piedi quando giunse da Simon Pietro e questi gli disse signore tu lavi i piedi a me rispose Gesù quello che io faccio tu ora non lo capisci lo capirei dopo gli disse Pietro tu non mi laverai i piedi in eterno cioè giustamente Pietro qui da ragione ma questo non può accettare perché è un gesto dello schiavo tu non sei uno schiavo tu sei il maestro non puoi lavare i miei piedi ma sapete sotto sotto il discorso di Pietro qui qual è? Pietro qui sotto sta dicendo se tu lavi i piedi a me e io poi che cosa dovrò fare? se tu sei il signore e io non sono nessuno e tu comunque mi lavi i piedi e quindi tu ti metti stai mettendo sotto di me e io dove devo andare a finire? neanche Pietro accetta questo fatto di questa vicinanza perché vi ricordate quando Gesù sale sulla barca con Pietro Pietro cosa gli dirà allontanare di me che sono un peccatore e vedete allora ci viene da dire ma allora Pietro non ha capito niente infatti Gesù gli ha detto tu ora non lo capisci perché carissimi noi non sempre riusciamo a capire però Gesù gli ha detto lo capirei dopo non ci dobbiamo spaventare se non sempre noi riusciamo a capire Gesù Cristo però l'onestà di dire signore ora non ti capisco è sapere che il momento dove capiremo arriverà per Pietro è arrivato quando dopo subire il martirio quando arriverà il nostro momento non lo sappiamo ma lo capiremo forse in paradiso ma lo capiremo allora sarà chiaro però come gli disse Pietro sulla tua parola getto le reti cioè sulla tua parola io getto la mia vita non su quello che allora capisco perché poi ne fateci caso non solo quello che capiamo ma quello che poi è chiaro per noi è quello che poi convene a noi non è così gli disse gli disse Simon Pietro signore non solo i piedi ma anche le mani e il capo e giustamente dice loro se devo avere parte contenente allora vabbè lavami tutto perché se ancora una volta gli interessi di Pietro Pietro che guarda poi a se stesso quindi se devo entrare in questa eternità per avere parte della tua vita allora lavami tutto e Gesù aggiunge chi ha fatto il bagno non ha bisogno se non solo i piedi quasi come Gesù dicesse chi mi sta seguendo chi ha capito la relazione con me il vivere con me capisce anche questo gesto qui quindi si tratta semplicemente della situazione del peccato da poter superare se mi stai seguendo se mi segui quindi il peccato non diventa più uno scandalo oppure un motivo di allontanamento come volevano gli altri chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi è tutto puro e voi siete puri ma non tutti sapete infatti che la Lodativa per questo diste non tutti siete puri immaginatevi a Giude che sente questa espressione Giuda sta lì i piedi Gesù li ha lavati anche a Giuda se non ti lavo i piedi non avrai parte con me che ha detto a Pietro è riferita tutti i dodici quindi anche a Giuda è riferita anche a Giuda i piedi sono stati lavati io non ho portato un'immaginetta sapete 15 giorni fa abbiamo avuto le ordinazioni diagonali in cattedrale e un diacono ha fatto un'immaginetta molto particolare che neanche lui lo sapeva dove stava questa particolarità forse è una mia illusione oppure è una mia interpretazione però mi piace questa interpretazione che gli ho dato ci sono voi sapete che generalmente quando c'è l'ultima cena oppure c'è la lavanda di piedi sono rafficurati tutti e dodici però in genere undici hanno l'aureola e Giuda l'aureola non ce l'ha in testa invece in quell'immagine tutti e dodici hanno l'aureola è un'interpretata così fin quando ti lasci servire dal Signore l'aureola è anche per te quando non vuoi farti servire più dal Signore e ti metti fuori l'aureola non c'è più fin quando Giuda resta ancora qui e si lascia lavare i piedi anche lui la salvezza è anche per lui ma nel momento in cui Giuda uscirà da fuori non c'è più salvezza dicevo pensiamo Giuda che sente queste espressioni non tutti siete puri quando qualche volta tra di noi no immaginatevi no quando andiamo a scuola qualcuno di voi certamente non ha studiato e noi io ne ho già studiato mamma mia che lo richiamo a me lo so e allora cerco di fare il possibile per caso però Gesù si sta rivolgendo anche a lui per dire capisci quando ebbe lavato i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi c'è qualcosa che non quadra in questo versetto 12 c'è qualcosa che non quadra leggete un po' ci sono i versetti sui foglietti vostri i numeri vedete un po' il versetto 12 vedete il versetto 4 c'è qualcosa che non quadra perché dice il versetto 4 si era zota tavola dei posti e le vesti preso un asciugamano se lo cinsi attorno alla vite e poi verso l'acqua avversettoci quando ebbe lavato i piedi riprese le sue vesti e di nuovo disse loro dove sta l'inconcurenza eh e va bene però c'è qualcosa ancora che non quadra non aveva tolto l'asciugamano si dice il testo quando ebbe lavato i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e l'asciugamano dove sta non se l'è tolto se il segno è quello dell'essere servo vuol dire che Gesù Cristo resta servo per sempre non è una mia intuizione questa è l'intuizione di un vescovo don Torino Bello che lui ha questa intuizione qui dice Gesù Cristo dopo che ha lavato i piedi dai suoi discepoli riprende le vesti qui si è qua da dire quindi la sua risurrezione quando fu esaltato le vesti della divinità ma quell'asciugamano del servizio non se l'è più tolto Gesù Cristo ora come sta in cielo con l'asciugamano del servizio Gesù Cristo come si rapporta con noi con il servizio sono intuizioni sono immagini e il testo limitiamoci al testo il testo questo ci consigne ed è bello capite di questo servo di questo servizio quindi ebbe lavato i loro i piedi riprese le sue vesti sedette di nuovo e disse loro capite quello che ho fatto per voi voi mi chiamate il maestro e il signore e dite bene perché lo sono Gesù qui non sta dicendo la falsumiltà dice sì mi chiamate il maestro io lo sono è vero che sono maestro se dunque io il signore il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri attenzione questa è la regola di vita che Gesù dà alla sua comunità la chiesa qui nasce la chiesa la chiesa non ha altra regola se non lavarsi i piedi gli uni agli altri e se lavarsi i piedi è segno di amore la chiesa non ha altro motivo di esistenza se non amarsi ma amarsi concretamente fino ad arrivare a questi gesti e attenzione non leggiamo come non sta scritto Gesù non ha detto io ho lavato i piedi a voi voi dovete lavare i piedi a me di solito dovete lavare i piedi gli uni gli altri lavare i piedi significa inginocchiarti davanti all'altro e se ti inginocchi davanti all'altro tu dell'altro che cosa vedi? il ginocchio o il piede se ti inginocchi davanti all'altro tu la faccia non la vedi perché se vedi la faccia inizia a dire ah questa è Antonio questa è Raffelina questa è Giuseppina questa è simpatico questa è antipatico questo mi vuole bene questo invece non mi vuole bene se tu vedi la faccia ma se tu vedi i piedi non lo sai ai piedi di chi sono e i piedi sono una delle cose un po' più brutte che noi abbiamo tanto per lì copriamo tengo il piede storto fateci caso anche quando durante la celebrazione facciamo la lavanda di piedi generalmente chi viene a fare la lavanda di piedi si prepara prima non è che lo dice all'ultimo momento perché se tu vai viene a fare la lavanda e gli dici no non vengo perché c'è vergogna e si non mangia la lavanda di piedi e si è calzino il rotto lavare i piedi gli uni agli altri così come sono i piedi cioè di questa realtà allora capite da un lato il lavare i piedi diventa come segno diremmo quasi sacramento perché sapete no Giovanni non ha l'ultima cena ci presenta questo e nell'ultima cena Gesù come dice questo è il mio corpo questo è il mio sangue e poi dice fa qui come ha detto gli uni agli altri fate questo è lo stesso ordine si chiama in termini tecnico ordine di iterazione è lo stesso ordine che dà fate questo il mio corpo il mio sangue fate questo lavare i piedi quindi allora vuol dire che l'equarestia ha come segno verità il lavare i piedi il lavare i piedi ha la sua radice nell'equarestia allora vuol dire che alla celebrazione alla quale partecipiamo non è per soddisfare il nostro precetto oppure per soddisfare il nostro bisogno di avere Gesù nel cuore l'abbiamo detto comunque se vi ricordate ma è per aprirci alla dimensione della carità per entrare sempre di più in questo mistero e poter vivere questo mistero allora quindi non è mia iniziativa oggi mi impegno a vivere l'atto di carità è fare entrare in me vivere in me quest'amore che Dio ha per me diceva Bonheffer un teologo protestante non cito amore perché non ricordo la memoria però diceva così il senso era questo qui se io ho capito l'amore del crocifisso verso di me io sarò in grado di perdonare ai miei crocifissori se ho capito il crocifisso come cifra dell'amore verso di me l'abbiamo visto la volta scorsa ci mettiamo davanti al crocifisso se vogliamo capire l'amore mettiamoci davanti a lui diciamo se voglio capire se capisco che il crocifisso mi ama fino a che punto mi ama io sarò in grado di amare anche i miei crocifissori è una frase fortissima ed è un programma questo di vita e allora qui capite Gesù in questo nel lavare i piedi non semplicemente ci ha dato l'esempio vabbè imitiamolo l'ha detto vi ho dato l'esempio infatti perché come ho fatto io facciate anche voi quindi è vero ci ha dato sì un esempio però appunto significa anche quattra cosa partecipare con lui alla vita l'ha detto se non ti lavo i piedi non avrai parte con me in verità in verità io vi dico un servo non è più grande del suo padrone né un inviato è più grande di chi l'ha mandato e qui sta parlando pure veratamente di nuovo a Giuda perché dice un servo Giuda sei servo tu sei un inviato non sei più grande di chi ti ha mandato servo non sei più grande del tuo padrone quante volte qualche volta anche noi vogliamo metterci sopra Gesù Cristo no vogliamo difendere sapendo queste cose siete beati se le metterete in pratica ecco la Chiesa ecco il popolo delle Beatitudini sapendo queste cose se le metterete in pratica sarete beati allora non si tratta solo di saperle metterle in pratica eh vi ricordate il peccato più grande è sempre questo il peccato più grande non è le bestemmie il peccato più grande non sono aver rubato il peccato più grande non è neanche andare a messa la domenica il peccato più grande è non fare il bene che dobbiamo fare questo è il peccato più grande il Signore non ci giudicherà sui peccati che abbiamo fatto il Signore ci giudicherà sul bene che non avremo fatto anche perché è un tabonone il peccato l'ho fatto purtroppo sta lì non ci può fare più niente quel peccato che ho fatto posso riparare dove posso riparare ma è il bene che devo fare quello è quello che mi sta davanti è questo il bene ci sta chiedendo lavare i piedi gli uni gli altri cioè questa accettazione gli uni degli altri accettare l'altro con quei piedi che ha quel peccato che è diverso dal mio piede con i miei limiti accettare questo accogliere questo come Gesù ha accolto questa è la Chiesa la diversità che in Cristo però ritrova l'unità l'abbiamo detto ricordate perché ce ne abbiamo l'Eucharistia per diventare il corpo di Cristo affinché tutti siano uno e a tutti coloro che mangeranno di questo pane e beranno di questo calice concedi che diventino un suo corpo in Cristo sapendo queste cose siete beati se le mettete in pratica non parlo di tutti voi io conosco quelli che ho scelto ma deve compersi la scrittura colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo caccagno Gesù allora sta adesso vedete pian piano sta facendo sempre dei passi avanti sempre per Giuda per dire Giuda attenzione però tutto questo lo sta facendo anche per te quindi anche tu puoi essere beato se sapendo queste cose le mettere in pratica ve lo dico fin d'ora prima che accada perché quando sarà avvenuto crediate che io sono adesso attenzione questa parola è crediate che io sono Esodo 3.14 io sono colui che sono quindi crediate che io sono in verità in verità vi dico che accoglie colui che lo manderò accoglie me che accoglie me accoglie colui che mi ha mandato l'Apostolo è questo quindi da qui Gesù nel Cenacolo però si apre poi la dimensione di quella che verrà dopo alla quale poi stiamo anche noi se voi mi dite di sì vado avanti se mi dite di no mi fermo vado avanti per altre 3-4 ore ce la facciamo adiceviamo la veglia no, credo di finire un poco prima dette queste cose Gesù fu profondamente turbato e dichiarò in verità, in verità io vi dico uno di voi mi tradirà provate a pensare no lui lo sa provate a pensare in questo momento nella sua anima cosa sta passando Gesù fu profondamente turbato e sapete ti viene vivido così davanti alla realtà che tu puoi immaginare noi possiamo immaginare che ci può succedere una cosa no è solo a pensiero che potrebbe succedere mamma mia ce l'ho nascosto così e lui invece lo sa ha la consapevolezza uno di voi mi tradirà i discepoli si guardavano l'un l'altro non sapendo bene di chi parlasse uno dei discepoli quello che Gesù amava si trovava a tavola al fianco di Gesù Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava vedete pure qui in un certo qual modo gli apostoli come sono reticenti davanti a questa cosa non hanno il coraggio di uscire allo scoperto neanche loro dicono mamma mia chi di noi sarà nessuno è certo più di se stesso a un certo punto cioè quasi a un certo punto davanti a quello che sta facendo Gesù si vedono tutti quanti scoperto cioè Gesù si è denutato e loro invece cercano di coprire sempre di più però sanno che gli occhi di a me sono tutti quanti nudi e addirittura Pietro facendo all'altro discepolo quello che Gesù amava chi è quell'altro discepolo che Gesù amava e dove sta scritto non cadiamo negli errori l'altro discepolo quello che Gesù amava sapete secondo qualche studioso chi è lo identifico proprio in un uno particolare l'abbiamo detto prima anche chi? no ma dite non ti parla che ti parla che ci dà cose no qualcuno non è giusto qualcuno ha detto il nome da dietro l'ho sentito esatto perché siccome Lazzaro è stato chiamato l'amico che tu ami secondo secondo qualche studioso questo discepolo che non si fa mai il nome ma di cui viene solo detto colui che tu amavi è Lazzaro secondo qualche studioso secondo qualche studioso quindi addirittura Pietro che Pietro è quello che abbiamo visto quando sembra che ha capito non ha capito niente facendo al lato discepolo digli vedi un poco chi è il lato discepolo prima stava più vicino a Gesù ed egli chinandosi sul petto di Gesù gli disse quando è dolce questa scena la testa sul petto e va sul cuore non mette la testa vicino alla testa di Gesù non è mente mente è mente cuore è questo rapporto no di intimità come quel rapporto di intimità che Gesù ha con il padre e chinandosi sul petto di Gesù gli disse signore chi è? rispose Gesù è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda figlio di Simone Iscariota ora attenzione perché noi forse qui non abbiamo capito niente forse sapete che questo il boccone che si dava perché era previsto proprio si dava alla persona più ragguardevole della tavola diremo noi all'ospite di riguardo Gesù il boccone il pezzo migliore lo dà Giuda ancora qui gesto di infinita delicatezza da parte di Gesù per cercare di penetrare il cuore di Giuda non hanno ancora capito perché davanti a questo gesto proprio perché il gesto che si faceva quindi non riescono ancora a capire perché poi di là dopo lo dice dopo quando Gesù Giuda va fu via loro pensano che siccome Gesù possedeva la cassa doveva andare a comprare qualcosa per la festa quindi ancora è chiaro ecco il boccone però nonostante che è questo gesto però Gesù sta velando ancora il gesto e intinto il boccone lo preso e lo dà Giuda figlio di Simone Scariota allora attenzione qui perché vedete perciò dicevo prima c'era quello l'itinerario di tentazione perché adesso dice dopo il boccone Satana entrò in lui quindi la tentazione è lì che il demonio si era insinuato ora lì parla del diavolo quindi il separatore qui adesso dice Satana entrò in lui gli disse dunque Gesù quello che vuoi fare fallo presto attenzione perché qui sapete cosa ci sta dicendo Gesù Gesù sta dicendo anche a Giuda l'ultima parola Giuda non è né la tua né di Satana l'ultima parola è mia come se dicesse ti doveri il permesso di farlo fallo vai non ho perso nessuno di quelli che tu mi hai dato però leggiamo così quello che devi fare fallo presto ed è l'ultima parola questa ed è la parola dell'amore nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa Gesù gli avesse detto compra quello che ci occorre per la festa oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri egli preso il boccone subito uscì ed era notte ci fermiamo qui con questa notte non atmosferica non della sera ma quella notte che Giuda si porta nel cuore quella notte che da questo momento lui lo coinvolgerà completamente in quelle tenebre però come abbiamo detto la luce di quella la Pasqua getterà luce anche su quelle tenebre si è lavrata grazie a tutti